Il brodetto è il nostro sifood stile. Tutti in Italia facciano il sifood stile, ma tutti facciano un po' in modo diverso. Per noi è un piatto molto famoso tradizionale e molto parte della nostra cultura. È una composizione molto rica di sifood. È coccato con un classico, con un po' di garlico e oliva. Possiamo chiamare bruschettine. È un po' di pane che mettiamo un po' di garlico e lo mettiamo sul grillo per farlo croste. Dopo aver finito tutto il sifood, potete aggiungere il sifood con questo pane e mettere in mente un super giusto. E il vinagre è la chiave di questo sifood, perché dà l'acidità, mussel, clams, prawn, squid, razor clams, filet of seafood.